Il metodo Chenot è nato praticamente da uno studio che è partito dalla medicina cinese, non per un fattore folclorico o di etrologia, un spa Chenot che vuole dire? Vuole dire un spa multidisciplinare, dove abbiamo praticamente un'offerta a livello della salute di un modo globale. Però non è talmente semplice di curare la salute, perché bisogna assolutamente, andiamo a vederlo, individualizzare i vari problemi per ogni persona. Naturalmente l'alimentazione fa parte integralmente del concetto delle cure al palace e non si può assolutamente pretendere a una depurazione, un'eliminazione delle tossine senza toccare questo settore. Prima, la salute, sapete tutti che curare la salute è più importante che curare le malattie. Perché la malattia, quando l'aviamo, ovviamente siamo costretti, abbiamo delle malattie, siamo costretti di seguire dei protocolli molto rigidi. Invece la salute è dinamismo, è energia, è l'esaltazione di se stesso. La medicina cinese è la prima medicina che ha voluto considerare l'uomo di un modo globale e provare di individualizzarlo. Personalmente penso che loro hanno creato i primi argomenti a livello della genetica, perché hanno già individualizzato di un modo importante le varie caratteristiche di una persona. Avete capito che la scelta di Merano è una scelta che è stata fatta per tante ragioni, ragioni che ovviamente devono tutti convergere verso l'individualizzazione e siamo ovviamente al vostro servizio.